Agosto 1984, sulla spiaggia di Baia Domizia, questo che vedete è Luigi, con papà, e un raguidone credo, che eravamo noi, e questo qui è, ma vedi se quella era una cena e questo sei tu? Sì, sì, vedete già questo come siete qui su, qui ce ne vado due anni, se ne vado, è un po' di varia, 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 Sì. 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 . . . . . . . . Ehi, non deve vincere, non deve vincere, non deve vincere. Non deve vincere, non deve vincere. Non deve vincere, non deve vincere, non deve vincere. 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 Non deve vincere. Non deve vincere. Non deve vincere, non deve vincere. 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 Inizia nel 1987. 37 come si riconosce da parte dei bigli questo è Luigi in modo da da parte dei bigli da parte dei bigli che guarda da parte dei bigli e di più da parte dei bigli sono state che guarda che guarda Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.